Cesare Cremonini, chimica 8 e 33 minuti, benvenuto, buongiorno a Walter Cherubini, consulta periferia Milano. Buongiorno a tutti, ben ritrovati. Allora Walter, oggi potremmo partire da una parola, parola del giorno, partecipazione. E non stiamo parlando di Giorgio Gaber e la sua canzone, ma in questo caso no. Ma perché no, anche libertà e partecipazione diceva, quindi mi sembra che sia un aggancio interessante, anche perché nella sostanza Gaber è un po' la persona del momento, anche per la ricorrenza, quindi ci sono tutta una serie di cose interessanti. Gennaio è il mese di Gaber, diciamo. Gennaio è il mese di Gaber, mettiamolo dal punto di vista musicale sicuramente questa è una cosa interessante, ma se andiamo un attimino invece a entrare nel merito del tema della partecipazione, quindi sempre focalizzando il tema delle periferie, ci siamo appunto, abbiamo fatto questo decalogo dalle periferie per ripartire e quindi al punto 2, direi, sì, al punto 2 del decalogo dalle periferie per ripartire, ricordiamo una cosa, c'era il periodo del covid, che non è che se ne sia andato tra le altre cose, ma in questo momento qui nulla sarà come prima. Allora cambiamo le cose, perché se ritorniamo come eravamo prima, per qualcuno è auspicabile, visto anche la situazione che c'è stata in questi anni di difficoltà significativa, anche per alcune categorie di lavoratori, eccetera. Però andiamo un attimino più nel dettaglio di questo aspetto e quindi cambiamo, bene, cambiamo come? E il tema della partecipazione sicuramente è un tema importante perché vuol dire che si cercano di mettere a fattor comune tutte le energie presenti nella città, questo è un dato, perché questa città, se riprendiamo un concetto espresso dall'architetto piano, la periferia è la città che sarà o non sarà. E la periferia è la città che sarà e non sarà, molto spesso capita talvolta che qualcuno dica nelle periferie sono quelle che generano, sono quelle dove c'è creatività, però dopo di che non c'è una struttura che favorisca anche questo tipo di espressione. E quindi quello che accade in periferia emerge un po' incidentalmente, ma non è frutto anche di un percorso di facilitazione. Quindi nel decalogo dalle periferie per ripartire noi abbiamo messo questo, partecipazione e progettazione partecipata. La partecipazione non può essere relegata alle emergenze del momento, deve diventare un processo organizzativo, strutturato e continuativo nella logica della progettazione partecipata. Milano ha immense energie e professionalità, tra l'altro quelle riconosciute ogni anno con gli ambrogini, da valorizzare in maniera organizzata e non saltuaria. Quindi abbiamo ripetuto anche il termine della organizzazione, perché altrimenti si lascia un po' al caso e il caso normalmente che cos'è che accade? Che chi ce la fa ce la fa e chi non ce la fa continuano a farcela. E in più c'è questo tema degli ambrogini, cioè di ricordarci che esistono quelle eccellenze. Se le premiamo, se diciamo che sono delle eccellenze, a quel punto ricordiamocelo anche quando magari si va su quel tema e possiamo pensare di darci delle linee guida, di avere degli spunti da questa realtà che magari invece a volte poi vengono dimenticati. C'è il premio e poi vi è dimenticato. Vorrei associare anche... Un po' come vincere Sanremo, non sai, chi vince Sanremo poi in realtà non vende i dischi, li vendono gli altri, no? Un po' così, no? Sulle dinamiche discografiche non voglio entrare, sempre che ci siano ancora i dischi e qualcosa. Rimaniamo al nostro vinile per certi aspetti. Ma volevo anche associare un'altra cosa, perché il prossimo 3 febbraio, per cui festa di San Biagio, però c'è anche una, diciamo così, scadenza ormai annuale da decenni, che è il premio alla virtù civica panettone d'oro e quindi alle 10 al teatro... Sabato, giusto? Sabato 3 febbraio al teatro Parenti alle ore 10, organizzato dal coordinamento comitati, promosso dal coordinamento comitati milanese, anche organizzato, e poi anche da tutta un'altra serie di organizzazioni. In questo caso, appunto, c'è un'altra sorta di, chiamiamolo ambrogino, chiamiamolo panettoncino. Quindi noi abbiamo ogni anno la segnalazione di circa 70, qualcosa del genere, riguarda anche la città metropolitana da qualche anno a questa parte, appunto il panettone d'oro, che vengono segnalate e dopodiché rimangono disperse. Allora, al di là di come vengono poi individuate, ma sicuramente il grosso di queste realtà associative, persone che vengono individuate, hanno sicuramente, spendono delle energie per la città. Allora, queste energie per la città è opportuno che vengano anche canalizzate, con molta libertà, però, come amministrazione comunale anche, e anche come società, cerchiamo un po' di metterle a fattor comune. Penegu, Lenny Kravitz, I believe in love, again. Continuiamo a parlare di periferie, stiamo parlando di partecipazione. Beh, la partecipazione va fatta, nel senso che possono partecipare i cittadini, possono partecipare anche le istituzioni e, ad esempio, anche i municipi, Walter. Come viene trattato il tema della partecipazione dai municipi e come vengono partecipati anche i municipi? Forse anche quello è un tema di partecipazione. Ma questo qui è proprio un tema di struttura organizzativa della città, nel senso che se noi, anzi, noi continuiamo ad avere una organizzazione delle nostre amministrazioni che si rifanno a situazioni, diciamo, dei tempi che furono e, obiettivamente, non sono più adeguate, soprattutto nelle grandi città, a gestire tutta una serie di fenomeni complessi che noi diciamo sempre bisogna affrontare in maniera interdisciplinare, facendo sistema e quant'altro. Questa interdisciplinarietà e questo sistema è proprio sul territorio che viene meno, perché siccome noi abbiamo una struttura organizzativa dell'amministrazione che va per canne d'organo e cioè non ha relazioni tra direzione, direzione, funzione, funzione, soprattutto nel territorio, chi opera sul territorio si trova magari alla macchina del caffè, però come uffici non è mai previsto che svolgano un'attivazione sinergica e complessiva, se non in situazioni, diciamo così, proprio non d'emergenza ma poi di conclamata disastro e allora Bosco della droga di Rogoredo oppure adesso c'è stato a San Siro per cui dal prefetto alle associazioni e quant'altro, per cui si rincorre sempre il problema e il problema poi, come è evidente, è sempre molto più veloce di chi lo rincorre e quindi si aggrava. Rispetto alla partecipazione appunto nel decalogo abbiamo anche posto come primo punto il tema dell'organizzazione del decentramento e dei municipi. Abbiamo detto la settimana scorsa che c'era stato un rogo a Grattosoglio per un cantiere che andava, non andava, è stato anche segnalato. Domani ci sarà un sopralluogo delle apposite commissioni consigliari del Consiglio Comunale di Milano appunto, case sicurezza e coesione sociale. C'è il sopralluogo e quindi sono stati invitati il capo della Polizia Locale di Milano e poi anche i funzionari dell'Aler ed è stato anche invitato il municipio 5. Cioè la ramificazione amministrativa che dovrebbe presiedere quell'area lì perché stiamo parlando Grattosoglio, municipio 5 e quindi è il terminale dell'amministrazione, quello più vicino al territorio, è invitato. Per cui, come gli invitati, siamo alle nozze e ci sono i testimoni, poi naturalmente coloro che si sposano eccetera, sacerdote e quant'altro, dopodiché ci sono gli invitati che si spera che vengano, poi magari qualcuno non può venire. E va bene, ma comunque il matrimonio lo facciamo lo stesso perché il cuore del tema c'è lì così. E il municipio, su una cosa che accade sul suo territorio, è invitato. Adesso non vogliamo, prendiamo questo argomento tirandolo un po' per i capelli naturalmente, non vorrei che anche i presidenti delle commissioni consigliari ne avessero male, ma non è questo quel problema, perché loro stanno facendo il loro mestiere, grazie perché lo fanno. Però dal punto di vista organizzativo è il municipio che è lì, è lui che conosce bene il territorio, tutti quelli che ci sono e quindi è il punto... Dinamiche, dinamiche del territorio, dinamiche sociali... E quindi è lui il punto di riferimento di tutto, di governo, di governo di quel territorio lì e quindi è questo l'attore principale che poi può anche seguire. Se risulta come invitato, anche perché dal punto di vista del regolamento dei municipi, i municipi hanno competenza sull'edilizia privata, ma nulla sull'edilizia pubblica. Ecco, questo qui è il tema. Quindi fondamentalmente non è nemmeno un problema di diamo dei poteri ai municipi. No, i municipi dovrebbero avere, anzi devono avere, perché altrimenti continueremo sempre a rimanere così frammentati, devono avere la capacità di visione governo del territorio. Anche perché sul territorio ci sono decine di funzioni e servizi comunali che svolgono la loro attività. E c'è bisogno di quella famosa interdisciplinarità di intervento, sinergia. Chi è che assicura su un territorio questo tipo di modalità operativa? Bisognerebbe inventarlo, ma siccome ci sono i municipi, i municipi che ereditano, tra l'altro, quella che doveva essere la funzione delle amministrazioni degli antichi comuni, che sono stati eliminati cento anni fa, si è tentato cinquant'anni fa appunto con l'introduzione del decentramento, i consigli di zona, di restituire ai territori la capacità di governo, ma è rimasto lettera morta per questi cinquant'anni e speriamo che non rimanga ancora per altri cinquant'anni, perché poi i problemi si acquiscono e poi andare, si spendono tra l'altro un fracco di soldi per fare iniziative, tamponamenti di cose, bandi per iniziative. Poi, come è stato detto, ci sono degli interventi, poi le persone che vengono perché rispondono i bandi fanno degli interventi, dopo un anno non ci sono più. Cioè c'è bisogno di continuità, di presidio del territorio, non di estemporaneità. Strutturare gli interventi in maniera permanente appunto questo. Con soggetti che presidiano sul posto. Sul posto, il territorio. Bene, andiamo avanti con la musica e poi ci troviamo qui per i saluti finali e le ultime considerazioni. Analisa con 10. Analisa 10, sono 10 minuti che ci separano dalle 9, ma siamo ancora qui con Walter Cherubini, siamo arrivati alla conclusione ai saluti finali, ma prima di andare via un appuntamento fra qualche settimana, ma meglio dirlo prima. Sì, è l'appuntamento del 21 febbraio alle ore 15 nella sala conferenze di Palazzo Reale in piazza del Duomo 14. Che cosa faremo? Faremo una sorta di convegno riconoscimento. Di che cosa? Parlavamo prima del centenario degli antichi comuni, non è che nel 2023 è finito tutto, è stato proprio l'occasione per un rilancio. E rispetto anche a una conoscenza territoriale, è interessante riconoscere anche per l'identità, tutti questi aspetti, la milanesità. Ecco, vogliamo riconoscere le presenze sociali, assistenziali, sportive, associative, di varia natura, imprenditoriali, che da cento anni presidiano il territorio, diciamo così, degli antichi comuni. E ci sono! E della periferia, e ce ne sono parecchie. Ne abbiamo individuate circa un centinaio, la cooperazione abitativa anche. Quindi, attraverso la loro presenza, vogliamo un po' leggere questo centenario, e quindi guardarlo anche dal punto di vista dell'organizzazione della nostra città. Com'era, com'è, e come anche potrebbe essere. Perché sicuramente quegli aspetti burocratici sono da sottolineare e anche modificare. 21 febbraio, giusto? 21 febbraio. Palazzo Reale. Palazzo Reale, esattamente. La periferia che va in centro, ma perché deve raccontarla a tutta la città? E quindi, giustamente, non diciamo che non si bisogna andare, anzi, c'è il centro importante in queste situazioni, poi, insomma, facciamo... No, tutto funzionale, certamente. Tutto funzionale, infatti. Allora, Walter, grazie mille, davvero. Noi ci sentiamo presto, sempre qui, col Focus Periferie, e nel frattempo, invece, voi che ci state ascoltando, beh, arriva la nostra sigla, perché sono le 8.53, e sapete, a quest'ora parte la nostra sigla.